Eccoci qui nello spogliatoio degli arbitri, partita difficile, partita intensa anche per quanto riguarda gli arbitri e ovviamente è una partita così intensa, ci sono degli episodi che dobbiamo andare a mettere a fuoco. Stiamo parlando del secondo quarto, stiamo parlando di un'azione offensiva da parte di Biella con la palla che arriva a Kessa e la difesa di Drake Diener. Questa è la prima difesa di Drake Diener, che è una difesa assolutamente legittima, va sulla palla. Recupera ancora la palla Kessa, poi ecco, c'è questa fase difensiva e c'è Gianluca Mattioli che fischia un tecnico a Diener, perché? Sì, diciamo che qui Diener dopo aver stoppato la palla la prima volta in maniera regolare si ferma un attimo, quindi non reagisce sul passaggio di Soragna, è leggermente in ritardo e non trova altro modo per cercare di danneggiare il tiro di Kessa urlandogli, lo vediamo qui due volte davanti proprio alla faccia durante il tiro. Questa è una situazione in cui il regolamento dice che è comportamento antisportivo del giocatore e disturbare un attaccante durante l'atto di tiro. È chiaro che qui rimane tutto sulla valutazione dell'arbitro, c'è anche un discorso di causa-effetto infatti il tiro di Kessa comunque non viene neanche realizzato. Io ho deciso di dare un fallo tecnico a Drake Diener e ho applicato il regolamento alla lettra. Applicato il regolamento alla lettra abbiamo visto anche la smorfia di Drake Diener, il volto di Drake Diener che stava cacciando l'urlo quando il giovane Kessa stava facendo il tiro. Dalle immagini è molto chiaro, è chiaro che questi episodi a volte possono succedere anche in altre situazioni e noi dovremmo cercare di essere costanti nell'applicazione. Grazie, grazie molto della collaborazione, a voi!